Buonasera ai nostri telespettatori Allora, primo partito, è contento? Certo, essere il primo partito del Lazio sinceramente non ce l'aspettavamo Dicevo da domani al lavoro quindi Avete presentato un programma pieno di impegni quindi da domani vi metterete proprio al lavoro Esatto Dicevo al lavoro di impegno da domani Da domani Io da domani prendo 30.000 euro al mese Più tutti i benefit, ma lei ci andrebbe a lavorare? No E allora io mi andavo in settimana bianca, sono aperto gli impianti Arrivo fra un secondo Arrivederci, buon lavoro Arrivederci Grazie Grazie